Katia, tu lo sapevi che le arachidi sono legumi e non frutta secca? No! E che è impossibile farsi il solletico da soli? E che... E tu lo sai che il mercato tutelato dell'energia sta per finire? Ma va! Controlla subito la tua bolletta, se in alto trovi la parola tutela, è ancora poco tempo per cambiare! E quindi? Rottama! La tua vecchia bolletta! Portala in uno dei nostri punti energia, se lo fai entro il 31 luglio 2018. Per te un bonus fino a 60 euro sulla fornitura di luce e gas. Vallecamonica Servizi Vendite. Fallo subito, così non ci pensi più. E tu lo sapevi?